Ogni lunedì alle 22.30 continua l'appuntamento con MT Italia. Veronica Artioli, Lotto, ci porterà a visitare il parco marino che si estende fra la Sardegna e la Corsica. Il 22 invece ci racconta del ritorno del Gipeto, cioè dell'avvoltoio gigante che una volta viveva sulle nostre Alpi. Il 29 è la volta di Ercolano e dell'eruzione del Vesuvio che la distrusse nel 79 d.C.